Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Benvenuta alla nuova puntata, abbiamo ospite una cantoatrice, Marianna Valloggia e a questo punto la prima domanda spontanea Per chi non ti conosce oggi, come la descriveresti Marianna? Allora, per chi non mi conosce, Marianna è una ragazza solare che ama la musica e ama prevalentemente il ruolo che la voce ha nella musica quindi amo il canto perché mi ha aiutato moltissimo nella mia vita a essere un pochettino più libera è un'insegnante, insegna canto da tanto tempo ed è riuscita oggi come oggi a realizzare uno di quei sogni che da bambina neanche pensava di fare è una persona abbastanza generosa un po' nella sua normalità, nella sua quotidianità un po' più nostalgica diciamo, ma sempre solare e felice di conoscere persone e nuove storie questa è Marianna In questo punto parliamo tanto del primo disco di debutto è un disco nella sua semplicità molto complesso che poi ha una storia dietro importante la luna, ma in fondo la luna è un punto di partenza un punto di arrivo questa luna soprattutto quello che c'è dietro Guarda, allora, sicuramente per me è un punto di partenza ma un punto di partenza molto alto anche per mettermi questa sorta di battuta e doppio gioco perché, come hai detto tu, è il mio primo esordio discografico ma è una canzone che porta con sé una grandissima storia dove ci sono dentro, all'interno di questa storia dei nomi della musica italiana molto importanti io sono un amante della musica italiana se tu pensi, Franco Fasano era addirittura il mio cantante preferito quindi c'è anche una storia dentro la storia e è stata scritta da Franco Fasano nel 1994 tu pensa, quindi la canzone è stata scritta quando io avevo 12 anni ne sono venuta a conoscenza soltanto tramite Franco l'anno scorso e mi ha raccontato che è stata una canzone che Mia Martini ha proprio chiesto di poter scrivere per inserire nel suo ultimo album che poi purtroppo non scrisse mai quindi sicuramente per me è una partenza dove porterà la luna non lo so io sono aperta a ogni tipo di esperienza ogni tipo di incontro che questo universo decide di darmi ma già il fatto di poter partire con un disco d'esordio con un singolo d'esordio con questa storia con così tanto spessore immagino Pietro tu mi possa capire è una grande responsabilità ma anche un bellissimo onore e come sei arrivata ad arrivare a questa canzone? perché c'è un punto di partenza dove hai incontrato un Fasano oppure gli è venuto così un'ispirazione? allora è venuta in realtà come dici bene tu è venuta un'ispirazione allora è capitato come ti dicevo prima Fasano è sempre stato il mio cantante preferito per varie motivazioni di questa vita è riuscito a partecipare a un mio spettacolo dedicato a Mimi proprio l'anno scorso in estate quando ha ascoltato tutto il repertorio tutto lo spettacolo io ovviamente l'ho invitato sul palco e a lui come mi racconta spesso è venuto quasi naturale propormi di poter cantare questo brano perché è un brano che come dice sempre lui ha voluto tenere nel cassetto non voleva che ovviamente dopo Mia Martini ci fosse qualcun'altra cantante che lo interpretasse nel 2012 ha deciso di inciderlo nel suo disco semplicemente per poterlo dare alla luce perché come tu sai le storie e comunque le canzoni se non vengono regalate al pubblico è come se non esistessero e quindi per dare un senso a questa storia l'ha inciso però l'ha inciso in un modo tutto diverso da come doveva essere originariamente quando è salito sul palco ascoltando probabilmente me la mia sensibilità il mio modo di interpretare mi ha proprio chiesto guarda io ho scritto questo brano se vuoi ascoltalo e se ti piace lo puoi cantare te e quindi insomma è stato veramente una grande fortuna innanzitutto di averlo incontrato e poi comunque che da questo incontro sia nata una relazione anche di stima professionale e poi ovviamente anche personale ma a questo punto io ti parlo di emozioni qual è stata la tua sensazione emozionale quando lui direttamente ha detto se ti piace cantala a quel punto la tua e vedendo la tua faccia che lui comunque lo diceva con quella sincerità con quell'espressione con gli occhi sinceri e tu l'hai visto con quegli occhi la tua sensazione a quel punto qual è stata? la mia sensazione è stata questa te la faccio vedere perché esprime di più è stato così in questo modo perché innanzitutto non me lo aspettavo e quando arrivano queste notizie che tu non aspetti come ti anticipavo sono quei sogni che neanche pensi di sognare perché sono talmente perfetti che anche il nostro inconscio sotto sotto ci dice vabbè la perfezione non esiste io mi ricordo soltanto questo ed è stato la punta di orgoglio che porto in me nel mio lavoro e nella emozione che ho portato poi incidendo questo brano io ho fatto ho creato lo spettacolo dedicato a Mimì che si chiama La Mia Mia completamente da sola quasi addirittura con alcune persone che mi dicevano ma sai Mia Martini ha una sorta di elite di ascolto ormai è una cantante che insomma è trent'anni fa quasi non è magari così seguita e io mi ricordo che ho detto io la voglio fare questo spettacolo lo voglio fare perché voglio raccontare come l'ho vista io perché infatti lo spettacolo parla di come la sua voce è cambiata con lei dato che io sono un insegnante di canto quindi è nato proprio improvvisamente quando vedi un artista che tu stimi che da bambina avevi i suoi poster in casa e ti dice ho fatto questa cosa se vuoi la puoi fare tu adesso e secondo me è proprio una di quelle emozioni che non riesci neanche a descrivere cioè ti dici ma lo sto dicendo davvero questo è quello che ti viene passa per la testa sto sognando è un sogno questo è quello che penso adesso sto iniziando a realizzare che questo sogno in realtà è diventata verità il singolo è uscito sta andando molto bene sta è apprezzato anche dalla critica da un pubblico che personalmente pensavo non esistesse più il pubblico che ascolta le canzoni le canzoni canzoni ecco quindi sono molto molto felice una copertina del singolo dove ci sei te soltanto la tua immagine perfetta lì finisce con poi la luna è studiata oppure è nata così all'improvviso allora è studiata ti racconto anche questo aneddoto che c'è dietro la copertina che nessuno sa nessuno sa perché nessuno mi ha mai chiesto della copertina la mia prima immagine della copertina era una luna che ho trovato in un posto bellissimo qua vicino nella provincia di Novar dove vivo io dove c'era questo cortile con questa luna gigante e io che insieme a lei guardavamo il cielo come se lei fosse quasi caduta per terra e trovassimo l'indicazione il modo per riportarla diciamo così al suo posto quando ho fatto vedere la copertina a un po' di persone compreso Franco soprattutto lui mi fa ma si deve vedere il tuo volto deve vedere l'emozione che c'è nei tuoi occhi si deve vedere quello che tu sei e così abbiamo ho cambiato completamente idea abbiamo provato a fare degli scatti in primissimo piano e se tu noti dentro gli occhi c'è questa mezza luna dove sì c'è la luna ma prima c'è Marianna ed è una cosa molto bella perché lo scatto di Mattia Saglietti che è stato quello che mi ha detto guarda hai proprio sai che adesso si usano le luci quelle particolari rotonde quando ha visto il primo piano ha detto aspetta che mi è venuta un'idea ed effettivamente è bellissima c'è tutto lì c'è la mia emozione quello che io sono e il disco è un videoclip di Butto ma tutto in bianco e nero in realtà molto bianco e nero proprio un classico dove ci sei tu nello studio e ci sta questo pochettino immagine che è vuota tra te che canti e tecnici che sono lì ad ascoltare anche quel caso da chi nasce l'idea quel video anche lì è una storia molto particolare questa del video perché è stata fatta nel momento esatto in cui il primo è stato incontro è stato fisico dove io e Franco ci siamo incontrati per parlare della luna perché quando abbiamo deciso di poter fare il video per lanciare questo singolo in realtà l'idea era un'altra di farlo in un teatro in uno spazio un pochettino più particolare sempre per rendere l'idea comunque che è un brano classico che arriva da 30 anni fa e di conseguenza è stato scritto 30 anni fa per un certo tipo di artista quando invece abbiamo iniziato a raccontare questa storia da come è nata in effetti mi piaceva l'idea di poter portare lo spettatore all'interno di quel pomeriggio dove c'era tutta l'emozione che ci poteva essere quel pomeriggio lì è stato spettacolare e il lavoro che ha fatto Carlo Maria Borionetti è stato speciale perché ha proprio ricreato come se entrassi leggermente in una stanza dove in teoria non devi disturbare ma sei lì nel momento di una creazione di un qualcosa per me veramente molto importante e parlando della rappresentazione dal vivo chiaramente quando sali sul palco alcuni tuoi colleghi a volte mi dicevano quando salgo sul palco prima di salire ho la sensazione di dire ma chi me lo fa fare poi quando ti si apre la quarta platea davanti che c'hai a volte vedi il buio perché non c'è nessuno però senti un poettino quella energia quel brusio poi quel brusio che sale che poi senti anche cantare emozionarsi ridere però quella energia che nonostante che sei concentrata ti arriva come un'ondata qual è a quel punto la tua emozione? Guarda io ti dico sempre che ogni volta che ho uno spettacolo importante come quelli che sto portando in giro adesso legati a mia oppure a quelli che ho fatto legati a Mina io il giorno prima se non due giorni prima sono in lacrime dicendo che ho sbagliato lavoro perché per come la vedo io sul palco c'è la vera Marianna c'è quella che poche persone riescono a vedere e che anche probabilmente le persone che mi sono vicine riescono a vedere quindi sono talmente nuda che spaventa questa cosa qui non tanto l'idea della performance quanto l'idea di darti al pubblico e di magari deluderlo ok in realtà poi quando parti quando fai la prima canzone magari la senti ancora questa emozione io la percepisco molto forte tanto che a volte anche la voce non riesco a gestirla con tranquillità no però a me basta poi vedere effettivamente come le persone ascoltano io guardo molto spesso in volto il mio pubblico quando riesco a vederlo bene e mi rendo conto che sono lì perché devono ascoltare quello che ho da raccontare e la mia storia attraverso le canzoni anche di altri ma la mia storia attraverso la mia voce e a quel punto io la frase che mi dico è goditi il momento e lasciati andare che quello che sarà sarà e solitamente funziona abbastanza bene per il momento ha sempre funzionato e invece poi quando scegli al palco incontri le persone che o ti ringrazio perché gli ha regalato un sorriso un'emozione un ricordo oppure perché quella canzone è stata parte della tua vita oppure se canti qualcosa di nuovo tu ti dice sono così emozionato perché poi a volte non senti la domanda ma vedi il tuo sguardo il suo sorriso con quegli occhi energetici sì che senti allora quando quando io scendo dal palco due sono le sensazioni principali la prima è che non mi rendo conto di quello che è successo nel senso che sono talmente nel vivo di quello che gli altri guardano e di quello che gli altri ascoltano che io non mi rendo conto di quello delle emozioni che sono arrivate al pubblico quindi per me il fatto che una persona arrivi lì ed ecco la seconda sensazione molto bella che provo che arrivi magari con gli occhi lucidi per ringraziarti di quello che sei stata perché io so di avere una forza interpretativa molto forte e molto personale quindi molte volte non mi ringraziano per la canzone che ho cantato mi ringraziano per quello che sono stata per quello che ho dato loro in base a una canzone soprattutto quando canto brani come la luna che in questo periodo sto ovviamente portando in giro per diversi posti dove arriva la mia interpretazione alcuni dicono sì mi ricordo un pochettino le sonorità la musica di Mia Martini però riconoscono me e questo per me è la cosa più importante quindi c'è questo bianco nero del tipo che cosa è successo e dall'altra parte persone che sono molto emozionate e che mi ringraziano per quello che sono ed è la cosa più bella è quello che poi ti fa andare avanti il prossimo step il prossimo spettacolo e invece che cosa tendono questi ragazzi che insegni inerenti soprattutto quando hanno ascoltato ha ascoltato sicuramente il brano e che cosa ti hanno detto ma soprattutto che cosa ti hanno chiesto se c'è qualcosa di particolare che ti hanno chiesto allora bellissime domande che mi fai ma veramente grazie Pietro perché sono delle domande fantastiche innanzitutto i ragazzi sono molto orgogliosi e molto felici di tutto quello che sta accadendo perché il disco oggi esattamente anzi in questi giorni cade la diciamo così il primo compleanno il primo mese nel quale la luna ha visto la luce e quindi in questo mese effettivamente sono cambiate un po' di cose qui all'interno della scuola nei miei impegni e i ragazzi sono molto molto contenti di questo perché vedono che si sta muovendo qualcosa di differente poi è ovvio sono ragazzi che sono affamati diciamo così di voler rendere il canto una parte importante della loro vita di conseguenza oltre alla contentezza del brano l'hanno ascoltato ne sono contentissimi alcuni un po' straniti perché è una canzone che insomma dura quattro minuti oggi come oggi canzoni così lunghe non ce ne sono e quindi dicono l'ho dovuto ascoltare un po' di volte ma è bellissima e poi ci sono quelli invece un po' più diciamo così legati proprio allo studio della voce che mi dicono ma come hai fatto a fare quella cosa lì bellissima quel graffiato lo voglio fare anch'io insomma vedo tantissimo li vedo tanto stimolati e sono molto felice di questo ci sarà nel tempo un disco in formato vinile o cd o chiavetta allora sicuramente il cd sta per uscire a breve vedi che sei anche come si dice sensitivo sta uscendo a breve dal 26 di novembre sarà acquistabile ovviamente la canzone è già acquistabile sui digital store ma il cd con dentro la storia di questa canzone per quello che l'ho fatto ci sarà dentro la canzone più la base essendo io insegnante di canto devo preparare anche la base per i miei allievi ovviamente si potrà trovare però soltanto nella nostra zona in concretamento oppure tramite spedizione e per quanto riguarda invece cosa mi hai chiesto al vinile il vinile è un progetto che abbiamo in mente con l'etichetta ma ovviamente c'è bisogno di un pochettino più di canzoni perché deve essere un progetto importante il vinile a questo punto partendo dalla terra arrivando sulla luna a questo punto abbiamo finito il nostro viaggio e l'unica cosa che ci mancano due cose fondamentali dove poterti raggiungere ascoltare il tuo brano e i prossimi anche brani quindi ci daremo appuntamento per i prossimi brani e saluti finali allora su di me potete trovare praticamente tutto manca solo il mio numero di scarpe ma su facebook su instagram su tiktok su youtube scrivete marianna valloggia e trovate qualsiasi cosa solitamente sono vestita di rosso oppure c'è la copertina del brano e così in questi siti ovviamente social anche il sito ovviamente marianna valloggia sui social potete trovare anche tutte le nuove novità che arriveranno nel mese di dicembre di gennaio quindi lo spettacolo che farò a dicembre la nuova canzone che uscirà poi a gennaio febbraio insomma tante cose belle e super positive per quanto riguarda i saluti finali io caro Pietro ringrazio te ringrazio tutti i tuoi ascoltatori e il tuo pubblico perché mi sono proprio divertita e mi hai fatto parlare di cose che non tutti mi chiedono e sono molto contenta di questo vi ringrazio davvero tanto di cuore studio 7 tv e sport picciano game hanno presentato l'intervista di Pietro ospite della puntata e poi la luna verrà e poi la luna verrà